Sembra che il glamour e i riflettori non bastino a placare le tempeste. Fedez e Chiara Ferragni, la coppia dorata di Milano, travolti da voci di crisi e visite ospedaliere. Ma è davvero tutto come appare? Scopriamolo insieme. E ricorda, se vuoi restare aggiornato su tutte le ultime notizie, iscriviti e lascia un like. Avete notato l'assenza di Chiara e Fedez insieme sui social? Questa coppia, che ha costruito un impero sui social media, sta affrontando un periodo difficile. Fedez, difensore accanito di Chiara, si è ritrovato nuovamente in ospedale. Ma cosa sta realmente succedendo? Chiara, dopo aver perso milioni di follower a seguito dell'affaire Balocco, si ritrova al centro di chiacchiere e ipotesi. Le inchieste, la presunta crisi coniugale, tutto sembra crollare attorno alla Royal Family milanese. Ma ci chiediamo, è tutto vero? O forse, come suggerisce Fedez con un'emozione perplessa sui social, sono solo chiacchiere? Secondo te, la pressione dei media può influenzare una coppia famosa? In molti si interrogano sul rapporto tra Chiara e Federico. Un video post capodanno ha alimentato le voci di una crisi, con Federico che appare sempre più sui social, mentre Chiara sceglie il silenzio. Eppure, sembra che non sia tutto come appare. Oggi, su Instagram, una storia di Federico mostra la coppia insieme, forse a zittire le voci. Per non perderti le ultime novità sui Ferragnez, metti un like e iscriviti subito. Cosa ci dice questo? Che le apparenze possono ingannare, e che la realtà dei Ferragnez potrebbe essere ben diversa da quella che leggiamo. Fedez, afflitto da problemi di salute mentale dal 2022, è stato visto recentemente all'ospedale San Raffaele. È un segno di crisi o solo un controllo di routine? Ricordiamo, solo a dicembre, il rapper parlava apertamente della sua lotta contro la depressione. Cosa pensate di questa situazione? È solo un'altra fake news o c'è del vero in queste voci? I Ferragnez sono davvero in crisi o stiamo assistendo a un capolavoro di gestione dell'immagine pubblica? Lasciate la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti su questa e altre storie. Ricordate, le apparenze ingannano, e la verità è spesso nascosta dietro un click. Alla prossima, amici!